Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai, tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello, che nessuno canta più, come un vecchio ritornello. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai, sempre. Benvenuti ad Antenna 2 e benvenuti nella caserma della Polizia Locale di Avezzano, nella sede degli uffici direttivi. Siamo insieme all'Avvocato Luca Montanari, il Maggiore Luca Montanari, che è il Comandante della Polizia Locale di Avezzano. Intanto grazie per averci accolto, Comandante. Lei non è di Avezzano, da quanto tempo sta qui? Io sono di Rimini e sono ad Avezzano da circa un anno. Per la precisione ho preso a servizio il primo settembre del 2008, quindi ad oggi sono circa un anno e due mesi. Come mai hai scelto Avezzano? Più che scelto Avezzano è Avezzano che ha scelto me. Io ho partecipato a un concorso pubblico a livello nazionale, l'ho vinto e per cui ho preso servizio. Qual è la funzione specifica di un Comandante di Polizia Locale? Allora, innanzitutto dobbiamo precisare che l'autorità di Polizia Locale è il Sindaco. Il Sindaco emana le direttive e il Comandante è l'organo esecutivo, colui che deve tradurre quelle direttive in azioni concrete, quindi portarle ad effetto e praticamente individuando i servizi, le priorità e i luoghi e le situazioni dove intervenire per avere maggiore efficacia nei servizi. Abbiamo detto Polizia Locale. Perché si chiama Polizia Locale? Una volta si chiamava Polizia Municipale, Vigili Urbani. Tra l'altro la voce Polizia Locale non l'ho trovata sull'elenco telefonico. Ecco, questa è una lacuna che cercheremo in effetti di colmare e di correggere quanto prima. Diciamo che i Vigili Urbani sono la vera vecchia denominazione che ci portiamo appresso da oltre 50 anni. La legge del 1986 ha abrogato e sostituita con quella di Polizia Municipale. Poi, con l'avvento della riforma del titolo V della Costituzione e una legge regionale dell'Abruzzo, che è stata una delle prime leggi in Italia che ha saputo interpretare la nuova normativa, ha trasformato in Polizia Locale. Polizia Locale perché innanzitutto ha un respiro di valenza internazionale. è l'unica locuzione che può essere tradotta in tutte le lingue. Quindi un turista che viene in Italia e legge Polizia Locale quantomeno riesce a capire che ha di fronte a te una forza di Polizia che dipende dalle autonomie locali, dipende dall'autorità decentrata e non dallo Stato. Quanti agenti ha a disposizione? Ad oggi gli agenti sono circa una quarantina e noi contiamo di poter aumentare questo organico perché... Non sono sufficienti? Ecco, il parametro regionale afferma che gli agenti debbono corrispondere ad uno ogni 700 abitanti residenti e tenere conto anche della popolazione fluttuante. Quindi all'appello al nostro organico mancano circa 20 unità. Su un organico di 40 dovremmo essere in realtà 60. Una lacuna che purtroppo ahimè al momento difficilmente si riuscirà a colmare perché c'è il blocco delle assunzioni a livello nazionale per cui quello che si può fare è riferito ai numeri. Ma è per questo che vediamo più un servizio di Polizia che di Vigilanza in città? Allora, è un servizio di Polizia perché come dicevo prima la nuova normativa quando ha abolito, abrogato la denominazione di Vigilurbano non si è limitata a un'operazione di tipo solo formale, cambiamo nome, punto. Ha cambiato anche nella sostanza attribuendo alla Polizia locale ex Vigili Urbani competenze nuove, sempre più incisive e sempre più proiettate nell'ottica della sicurezza della città. Ma quando dice competenze nuove non si riferisce alle multe? No, le multe stanno diventando ormai una competenza quasi residuale perché le competenze nuove sono quelle che si proiettano nel campo della sicurezza urbana, della pubblica sicurezza, dell'infortunistica stradale, del controllo della popolazione degli immigrati e del fenomeno di questo tipo. Senta, gli automobilisti di Avezzano secondo lei sono più o meno disciplinati o indisciplinati di altre città? Beh, guardi, quella degli automobilisti è una categoria internazionale quindi il livello di disciplina e indisciplina è esattamente identico a quello per esempio nella città in cui lavoravo prima, né più né meno. Da quando lei sta qui, quante contravenzioni sono state elevate? Ecco, tornando un po' a riallacciarci al discorso di prima ad oggi credo sia un po' ingeneroso ricollegare sempre la figura dell'agente di polizia locale alla contravvenzione. La contravvenzione è uno dei tanti compiti che noi siamo chiamati a svolgere ma tanti altri si affiancano alle contravenzioni. Comunque posso fornire un dato, con questo nuovo assetto organizzativo come diceva lei prima giustamente, un po' più proiettato alla sicurezza le nostre pattuglie fermano ogni mese circa 1700 veicoli per semplici controlli di prevenzione. Poi di questi 1700 veicoli solo la media, il 18% viene sanzionata sanzionata per comportamenti gravi che vanno contro le norme diciamo più importanti della sicurezza strana. Circa 200 al mese? Circa 300 al mese sono. 1700 vengono fermati, di questi 1700 300 subiscono una sanzione perché responsabili di violazioni gravi e gli altri 1400 subiscono il controllo e per questo che noi crediamo di fare una buona prevenzione perché in questo modo il cittadino viene anche educato o abituato al rispetto delle regole. Qual è la infrazione più frequente? Guardi, l'infrazione più frequente che ho rilevato esaminando un po' i nostri atti è quella del mancato uso delle cinture di sicurezza. Che comporta una sanzione di? Allora, sono 78 euro e una decortazione di 5 punti dalla patente. Ecco, e altra infrazione molto molto ricorrente che comporta le stesse conseguenze è quella dell'uso del telefono cellulare alla guida. Effettuate anche controlli notturni? Allora, i controlli notturni vengono effettuati giornalmente, sistematicamente nel periodo estivo, periodo estivo che più o meno si attesta dal mese di aprile al mese di ottobre. Nel periodo invernale effettuiamo servizi notturni in modo sporadico e all'occorrenza secondo quelli che sono i servizi che ci vengono richiesti. Questo anche perché, vorrei sottolinearlo, i servizi giornalieri ci impegnano in maniera particolare basti pensare che solo i servizi alle scuole richiedono una presenza al mattino dalla maggior parte degli agenti che appartengono al comando, al corpo. Senta, il suo referente a livello di amministrazione comunale è l'assessore alla polizia locale o è il sindaco? O tutte e due? Beh, allora, innanzitutto l'autorità principe, referente principale della polizia locale è il sindaco. Autorità locale di polizia amministrativa locale, come dice la legge in maniera precisa. Il sindaco emana le direttive e una parte delle proprie competenze le può delegare a un assessore come è avvenuto nel nostro caso. Infatti ho come referente il sindaco e anche un assessore che in subordine mi fornisce le direttive. Senta, quando lei vede quelle lunghissime file ad Avezzano su via 20 Settembre, su via Roma, su via Monteverino, che pensa? Allora, innanzitutto penso agli ingegneri del traffico ai quali sono stati affidati gli studi per la realizzazione del nostro piano urbano del traffico, i quali numeri alla mano, rilevamenti alla mano, ci hanno chiaramente detto che è una città se non al collasso, che sta rischiando il collasso. E comunque in alcune punte della giornata è al collasso. E questo l'abbiamo capito da soli. Questo si vede e in questo modo quello che penso è che si rende sempre più impellente un intervento per cercare di migliorare questo tipo del piano urbano del traffico. Che entrerà in funzione? Allora, quando entrerà in funzione la data precisa non la soio, aspetto appunto a riguardo una direttiva in merito, la quale direttiva mi arriverà non appena arriveranno dei dati che stiamo attendendo, che sono le ultime rilevazioni che debbono essere condotte e una piccola questione di carattere burocratico amministrativo per l'acquisto dei segnali, eccetera. Quando saremo pronti con i segnali in magazzino e avremo anche questi dati si potrà partire. L'ora X verrà stabilita ovviamente dai miei referenti amministrativi. Quante auto entrano in un giorno ad Avezzano? Allora, io ho i dati che mi sono stati forniti dall'ACI. Posso dire che ogni giorno ad Avezzano si muovono circa 40.000 veicoli. Solo di persone residenti ad Avezzano. 40.000 veicoli alle quali si aggiungono, dati delle rilevazioni effettuate, circa altrettanto veicoli di persone che entrano o escono o transitano per Avezzano. Quindi una media di 80-100.000 veicoli tutti i giorni. E il problema parcheggi, secondo lei, come si può affrontare, risolvere, migliorare? Il problema parcheggio è un problema molto delicato e molto sentito. Diciamo che come amministrazione è stato fatto, credo, molto e altrettanto verrà fatto, principalmente con l'istituzione dei sensi unici. Istituendo un senso unico è vero che a volte forse il giro si allunga un po', però non dobbiamo sottovalutare il fatto che vengono eliminati dei divieti di sosta, consentendo la sosta dei veicoli anche sul lato dove prima era vietato. Quindi recuperando posti auto. Altre sensi unici verranno poi, ovviamente, all'entrata in vigore del piano urbano del traffico, verranno notevolmente aumentati per quello che riguarda il cosiddetto centro storico o quadrilatero, dove le strade si cercherà, per quanto possibile, compreso il quadrilatero stesso, di trasformare a senso unico. E per fluidificare il traffico e per reperire parcheggi. Questo ovviamente per quello che riguarda il centro. Il centro poi è quello che è, per cui altri parcheggi, come molte volte viene anche richiesto in maniera un po' demagogica da qualcuno, non è realizzabile nessuna ipotesi, perché o si abbattono case o si va a piedi. Un attimo di camminata, un attimo si allunga il percorso, si parcheggia un po' più lontano e si raggiunge il centro a piedi come avviene in tante città. Parcheggi in periferia, non ne avvertiamo l'esigenza, perché molte volte in periferia il posto si trova, soltanto che siamo un po' tutti abituati a voler andare in centro con l'auto fin davanti al negozio. E' lì che si crea il problema poi. Torniamo un attimo sui vari settori in cui interviene la polizia locale, tipo l'accattonaggio, i venditori abusivi, parliamone. Allora, l'accattonaggio è un problema sentito che noi stiamo cercando di monitorare anche perché bisogna distinguere due situazioni differenti. L'accattone vero, il quale è una persona bisognosa e che va aiutata, non va colpita. E per quanto possibile noi cerchiamo di effettuare anche segnalazioni ai nostri assistenti sociali affinché si prendono cura di persone che effettivamente possono avere bisogno e accattoni meno bisognosi che magari celano intenti differenti e a quel punto bisogna intervenire. Debo dire purtroppo che le leggi in nostro possesso non ci consentono granché. Interventi molto efficaci. Anche perché si è fatto una contravenzione? Si fa un foglietto, si fa la contravenzione, sono anche 50 euro, 100 euro che si mette nelle mani di una persona che molte volte è irreperibile, senza fissa di moro, oppure non ha intestato nulla per cui diventa inefficace il provvedimento. Comunque a Bezzano le piace? Molto. Sono molto contento e già mi ero innamorato di questa città al tempo del concorso. Questo l'ho detto a tutti. In contemporaneo ho fatto concorsi in varie parti d'Italia, però devo dire che quando sono venuto a dare il concorso di avversità ho sentito qualcosa in più che mi ha spinto ad applicarmi meglio per poterlo vincere. Le è capitato di dover dire di no a chi le chiedeva di annullare una contravenzione? Sempre. Sempre. Io le contravenzioni non le posso togliere e le autorità competenti a fare ciò sono il prefetto e il giudice di pace. Chiunque altro provasse a togliere una contravenzione, anche ritenuta giusta, giusto togliere quella contravenzione dovrebbe comunque farsi parte diligente presso il prefetto, presso il giudice di pace per aiutare il cittadino affinché quella contravenzione gli possa essere tolta. Strappare il foglietto, come molte volte ci viene chiesto così in modo semplicistico, togli quella contravenzione significa commettere un reato. Togliere una contravenzione è un reato. Chiarissimo. Senta, abbiamo concluso, grazie. Che cosa si sente di dire a un automobilista avvezzanese? Io, più che ad un automobilista avvezzanese, direi così agli avvezzanesi in genere, di riscoprire un po' più il gusto di andare a piedi e di utilizzare la bicicletta, perché è molto importante e la città è molto bella e si presta molto a questo. La città è la città è la città è la città. Grazie a tutti.